Devo dire che la ripresa è stata molto, molto, diciamo, positiva rispetto all'anno scorso, anche se l'anno scorso, durante l'estate, c'è stata pure una bella ricrescita. Quest'anno, invece, dobbiamo dire che già noi abbiamo riaperto il febbraio e si è notato, diciamo, un grande miglioramento. Per cui, devo dire che sta andando molto bene, ci saranno molti turisti, sia in casa vacanze che quello, diciamo, l'acquistruttura che ci sono qua, sebbene sono poche, sono tutte piene, specialmente nel periodo di agosto. Quindi, auguriamoci di continuare sempre così e di non ripresentarsi la chiusura dell'attività a fine stagione, che non succeda mai più. Dopo la pandemia, sinceramente, stiamo avendo un incremento di turisti e con la speranza che effettivamente arrivino e che gli aumenti di questo periodo si contengano perché sarebbe triste avere meno turisti in giro. Quindi, potrebbe essere anche contro le nostre aspettative. Ma l'augurio che il tempo faccia bello, ci aiuti, perché con il tempo bello la gente si muove. Quindi, come zona balneare, diciamo che offriamo tanti servizi. Poi, il bello di questa zona è che ci sono i parcheggi proprio alle spalle del Lido, sia del Lido sia di tutta la spiaggia. Quindi, offriamo i servizi che la gente si merita e noi diamo il massimo da 26 anni a questa parte. La stagione quest'anno sembra iniziare molto prima rispetto agli altri anni. Ovviamente, qua a Siculiana Marina si nota un'area di cambiamento, di crescita, grazie a tutti i locali che si sono cimentati a prestare il servizio qui sulle spiagge di Siculiana Marina. Ovviamente, è una bellissima spiaggia attrezzata sia con le strutture, con le pedane per i disabili, i parcheggi. Diciamo che, rispetto a qualche altra spiaggia, abbiamo un qualcosa in più. Io sono fiducioso, spero e penso che sia una bellissima stagione per tutti. Noi siamo qui, vi aspettiamo. Un'ottima stagione dopo la pandemia. Tutto qua si è attrezzato, parcheggi custoditi. Abbiamo qui allo shalai la passarella per i disabili per accedere alla spiaggia provvisoria. E aspettiamo a tutti. Si può mangiare, si può prendere il sole, ci sono gli ombrelloni riservati, potete mettere gli ombrelloni propri nella spiaggia, di bagni, servizi, tutto quello che volete, qua trovate.